Il turismo ischitano riparte dalla DMO questa mattina in municipio illustrati in un incontro pubblico gli ultimi sviluppi del progetto redatto da Josef Jarche. Alla presenza dei sindaci isolani svelato anche il portale Visitistia, le parole dei protagonisti. Addio a Gaetano Fazio, maestro pizzaiolo, si è spenta una storica figura della nostra isola, fu ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. La sua scomparsa ha gettato tristezza nella comunità isolana, tanti messaggi di cordoglio. Il Telese porta le tradizioni in piazza a Barano, l'appuntamento con la prima giornata del progetto Made in Ischia, varato dall'Istituto Professionale Alberghiero, un viaggio dentro i sapori e la storia della nostra terra. Tutti con la catena alimentare si avvicina la giornata di sabato 18 novembre, quando anche nei supermercati isolani ci sarà la giornata della colletta alimentare, istruzioni per l'uso sui prodotti da acquistare e donare per i meno fortunati. Buonasera e ben ritrovati con la nuova edizione del TG News di Nuvola TV. Siamo in diretta dagli studi di redazione e cominciamo subito ad accendere i fari su questa mattina, dove presso la sala consigliare del municipio di Ischia è stata presentata la DMO Ischia Risorsa Mare. L'incontro pubblico è stato l'occasione per raccontare i passi avanti fatti nell'ambito del piano di rilancio turistico e poi anche per presentare il nuovo portale Visit Ischia. Al termine abbiamo raccolto le impressioni del manager Giuseppe Iarche ed ascoltiamola al microfono di Gaetano Ferrandino. Dottore Iarche, un altro importante e significativo mattoncino, chiamiamolo così, come si tirano le somme dell'incontro di questa mattina? Le somme si tirano fondamentalmente sul fatto che noi strutturiamo in qualche maniera una rete fra operatori, lo quale si traduce sul fatto che Ischia potrà andare a cercare e a promuoversi i turisti con delle proposte concrete, cioè non più il viene a Ischia come tale, se no viene a Ischia o scegli Ischia per fare questo, questo, questo e avrai gli operatori facilmente identificabili. Il nostro compito, in qualche maniera queste somme, mi piace questo concetto, non è altro che mettere in contatto l'offerta, noi, con la domanda, i turisti, in modo di avere dei risultati positivi. Perdonerai il senso squisitamente pratico dell'attività che è stata messa in essere fin qui, secondo lei i primi tangibili risultati arriveranno già dalla prossima stagione o occorrerà un po' di tempo in più? No, direi, allora, oggi nel turismo i primi risultati, se lavori i beni, ti arrivano entro 4-5 mesi, cioè noi, perché noi partiamo oggi? Non è che partiamo oggi per il domani, partiamo per il dopo domani, per noi è il dopo domani e l'inizio della prossima stagione. Lei ha sempre confessato di essere innamorato di Ischia, di esserci venuto anche in vacanza e non soltanto professionalmente. Allora, non al manager, ma alle IARC che ha scelto all'epoca Ischia per le sue vacanze. Chiedo, qual è l'isola che gli piacerebbe vedere da turista domani? La vorrebbe cambiata come? Con una maggiore consapevolezza di un fatto, del stile di vita ischitano, che si traduce in una cosa che è desiderata, amata, e è quello che cercano i turisti, soprattutto europei, l'americano è un po' diverso, ma l'europeo, che è il concetto del benessere e del stile di vita mediterraneo. Ischia deve essere sicuramente più consapevole di questo, diciamo, grande elemento di base, di DNA, che a volte penso che si perde un pochettino. L'ultima e ho finito. Si è parlato tanto, ovviamente, questa mattina anche del nuovo portale. In che cosa, secondo lei, dal punto di vista tecnico, pratico, visivo, di consultazione, può fare la differenza rispetto ai prodotti fin qui lanciati e o presenti sul mercato? Allora, Ischia ha tanti portali e tutti i tipi, ma tutti mi vendono le singole alberghe, prenotazioni, eccetera. Quello che noi dobbiamo fare oggi un turista sceglie fondamentalmente perché ha un bisogno, ha un sogno, compra il sogno. Beh, il nostro portale turistico, che è un portale istituzionale, in qualche maniera, quello che fa è vendere, inspirare, dare, sedurre, il perché devo di scegliere Ischia come turista, piuttosto che un'altra destinazione. Questo è l'aspetto, diciamo, di base fondamentale. La nostra idea è quello che ci sia un strumento, un portale a disposizione di tutti gli operatori, di tutto il territorio, per attirare l'interesse di quello che, diciamo, l'esperienza Ischia può dare a un turista, a un ospite. E abbiamo raccolto anche le impressioni del sindaco Enzo Ferrandino, che ha voluto sottolineare l'importanza della presenza dei suoi colleghi sindaci, oltre all'importanza di perseguire un percorso virtuoso e di unità di intenti. Sentiamo. Enzo Ferrandino, un altro passo avanti, verso la DNO, cosa lascia l'incontro di oggi? Lascia la consapevolezza che si sta svolgendo un lavoro importante, che c'è un'attenzione palpabile con la presenza massiccia nella sala consigliare stamattina di tanti operatori del turismo del comune di Ischia, ma dell'isola di Ischia. Mi fa piacere tantissimo aver registrato la presenza dei colleghi sindaci degli altri comuni, con il quale si sta stringendo e rafforzando sempre più una sinergia su tanti campi, dove sono certo anche da un punto di vista delle politiche di marketing turistico avremo la capacità di stringere e essere ancora tutti quanti insieme, sinergicamente più efficaci, a vantaggio della destinazione turistica dell'isola di Ischia. Questa iniziativa è la presenza dei sindaci oggi. Adesso è chiaro che nessuno si vuole mettere medaglietti al petto, però restituisce anche a Ischia quel pizzico di centralità che forse secondo qualcuno aveva perso. A mio avviso queste sono battaglie di retroguardia che non devono appassionare nessuno. La verità è che abbiamo bisogno tutti quanti insieme di riattualizzare il prodotto turistico, di seguire delle strade che risultino essere virtuose e penso che gli ingredienti sotto questo aspetto ci sono. Poi è chiaro, siamo tutti quanti consapevoli che in questa attività c'è bisogno del sostegno di tutti, che nessuno si può tirare indietro e che solo se saremo tutti quanti compatti e uniti, poi alla fine riusciamo a raggiungere il risultato. Ed ora una notizia luttuosa. È morto stanotte all'età di 73 anni improvvisamente Gaetano Fazio, pizzaiolo di fama internazionale che ha esportato l'arte della pizza in tutto il mondo, lasciando uno straordinario ricordo di sé, soprattutto negli Stati Uniti ed in Giappone, dove sono tantissimi messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore. Vediamo il servizio di Gennaro Savio. Stamattina una notizia terribile ha iniziato a circolare alle prime ore dell'alba. Gaetano Fazio, inimitabile pizzaiolo di fama internazionale, è morto all'improvviso all'età di 73 anni, dopo aver trascorso l'ultima giornata di lavoro presso la pizzeria che porta il suo nome in via delle Ginestre a Dischia. Umile e generoso, Gaetano ha iniziato da giovanissimo ad impassare acqua, farina e lievito, creando delle pizze soffici e saporite, sempre condite con alimenti di prima scelta, cucinati alla perfezione dalle sue stesse mani. Esponente di spicco dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, ha trascorso la stragrande maggior parte della sua vita professionale sull'isola Dischia, da dove, prima presso l'accorsato ristorante da Cecilia e poi in proprio, per decenni ha esportato la tradizione della pizza in tutto il mondo, passando, come se nulla fosse, dal continente asiatico a quello americano, lasciando, ovunque abbia imbastato pizze, un ricordo indelebile della sua maestria. Nel novembre del 2019 fu premiato negli Stati Uniti d'America per i suoi 60 anni di carriera. Ospite di Salvatore Discale e il suo allievo ischitano emigrato negli States dove gestisce la famosissima pizzeria Naples 15, a Gaetano Fazio fu conferito il premio alla carriera dall'Università del Wisconsin-Madison, riconoscimento conferitogli personalmente da Ivan Solo, il filosofo americano e professore merito nel Dipartimento di Filosofia degli Stati Uniti. E quella, per Fazio, fu anche l'occasione per incontrare le leggende del basket americano, tra cui la stella Rashard Griffith, il quale, assieme a tantissimi altri campioni della pallacanestro, ha avuto modo di degustare l'eccellente pizza preparata dal pizzaiolo ischitano. In Giappone, invece, da dove era rientrato da appena due settimane, da tantissimi anni Gaetano rappresentava una vera e propria star. Infatti, dopo aver formato presso la sua pizzeria di ischia decine e decine di pizzaioli con gli occhi a mandorla, in Giappone sono stati inaugurati vari ristoranti con il suo nome. Apprendisti pizzaioli che, incredibile a dirsi, lo capivano al volo anche quando si rivolgeva loro in dialetto napoletano. E per dare il senso della grandezza internazionale raggiunta dalla sua arte, basta ricordare che sempre nel 2019 giunse a dischi alla troupe di una delle maggiori reti televisive nazionali delle Filippine per raccontare la sua straordinaria storia di umile e grande pizzaiolo. Cosa aggiungere, caro Gaetano, grazie per averci deliziato con le tue pizze e di averci dato lezione di saggezza ed umiltà. Che la terra ti sia lieve, grande maestro. Spostiamoci ora a Casamicciola, dove l'amministrazione comune ha ratificato l'assunzione della dottoressa Vincenza Piro in qualità di funzionario contabile area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con decorrenza dal 18-12-2023 previa stipula di contratto individuale di lavoro. L'assunzione a tempo pieno ed indeterminato della dottoressa Piro a seguito di scorrimento di graduatoria di altro ente pubblico quale il comune di Pompei, ove la professionista risultava ultimamente collocata in graduatoria. Cambiamo argomento, si è svolto questa mattina in piazza San Rocco a Barano la prima giornata del progetto Made in Ischia varato dall'Istituto Professionale Telese di Ischia. Un vero e proprio viaggio enogastronomico alla riscoperta delle traduzioni dell'isola di Ischia. Scopriamone tutti i dettagli nel servizio che segue. Professor Perna parte oggi qui da Barano l'iniziativa del Telese Made in Ischia. Di che cosa si tratta? Allora, è un progetto che vuole valorizzare un po' i prodotti dell'isola di Ischia, quelli legati all'enologia, alla gastronomia e anche per far conoscere ai nostri ragazzi le vere tradizioni. Oggi abbiamo approfittato della piazza di San Rocco e volendo fare un po' di attività direttamente in piazza quindi uscendo dalle mura scolastiche proponendo alcuni prodotti quelli legati al territorio in particolar modo dall'insalata cafona pane e pomodoro piuttosto eventualmente anche delle frittelle con pasta cresciuta il tortano classico e in più la cosiddetta merenda del condadino che quando meno andava è un qualcosa di tradizionale a cui abbiamo abbinato l'acquetta la cosiddetta bevanda che accompagnava i passi appunto nel mondo rurale e poi abbiamo fatto alcune bevande analcoliche rivisitando alcuni cocktail che sono codificati internazionali dal Virgin Mojito allo Spritz analcolico passando poi pian pianino verso i prodotti legati al Virgin Dai Chili e poi essendo diciamo in un periodo particolare dove da poco è stato celebrato San Martino abbiamo messo in campo anche il Vino Novello. Ecco questo è un progetto che è partito da Barano ma andrà in tutte le piazze di Ischia e coinvolge sala e cucina, gli indirizzi? In realtà diciamo nel progetto sono coinvolti in particolar modo il grafico pubblicitario che è accurato in tutta la parte legata alla grafica e soprattutto alla diffusione delle brochure accoglienza turistica che comunque ha un'azione mirata per quanto riguarda la valorizzazione dei percorsi territoriali appunto isolani poi abbiamo anche la pasticceria che lì per quanto riguarda i manufatti l'arte bianca e soprattutto ovviamente cucina e sala le attività non saranno solo volte alla piazza di Barano è un percorso che andrà man mano concordato con le altre realtà isolane e diciamo abbiamo già in cantiere per Natale e per Forio vogliamo entrare diciamo in un percorso particolare quindi abbracciamo un po' tutti i sei comuni dell'isola di Ischia. Siamo una scuola, noi il Telese, l'alberghiero una scuola che ha molta attenzione verso la sostenibilità del territorio noi per esempio abbiamo impiantato un impianto di acqua potabile per cui i nostri ragazzi evitano di comprare bottigline di acqua in plastica e ricaricano le borraccine a scuola per esempio, un altro esempio è che in cucina abbiamo delle macchine compostabili per l'umido e quindi produciamo materiale organico che può essere utilizzato per concimare il nostro orto didattico anche se non abbiamo più una sezione dell'agrario comunque il nostro orto continua a vivere perché i ragazzi e qualche collaboratore scolastico si rende disponibile e in più diciamo che cerchiamo di utilizzare anche i prodotti proprio dell'orto e portarli in tavola direttamente a chilometro zero Ecco ed è ciò che sta avvenendo oggi con questo progetto Made in Ischia Infatti, se gli ospiti hanno notato che noi stiamo servendo degustazioni che riguardano proprio la tradizione popolare ischitana di questo periodo, del periodo della vendemmia e quindi stiamo servendo l'insalata cafona stiamo servendo il pane pomodoro il pane con ragù il torta, le zeppoline al finocchietto quindi diciamo tutti quei prodotti a impatto zero a chilometro zero Il comune di Barano oggi ospita questa prima uscita degli studenti dell'alberghiero titolata Medinischia che è un trionfo delle nostre tradizioni enogastronomiche Sì, è stato un bel momento questo con i ragazzi dell'istituto alberghiero hanno fatto conoscere alla cittadinanza il lavoro che effettivamente viene svolto all'interno della scuola sapori tradizionali buonissime le fave buonissimo il tortano l'insalata le frittelle veramente dei ragazzi in gamba abbinati ovviamente agli ottimi vini del posto hanno preparato dei cocktail veramente complimenti complimenti ai docenti e soprattutto ai ragazzi Ed ora andiamo nella vicina isola di Procida dove è restata senza acqua potabile a causa dei lavori di manutenzione della condotta a cura della regione campania che si sono prolungati rispetto ai tempi previsti l'isola di Procida resta dunque senza acqua potabile le cause sono riconducibili ad impedimenti durante la fase dei lavori che hanno fatto dilatare i tempi provocando assenza di acqua ma subito è stata prevista la chiusura delle scuole degli uffici comunali e della SAP sono state attivate nel pomeriggio le autobotti presso Piazza Marina Grande Piazza Le Darmi Terra Murata e Chiaiolella grazie all'azione tempestiva della protezione civile ma sembra che la situazione stia lentamente ritornando alla normalità e si spera di risolvere il tutto in serata considerando i circa 15 km di conduttura totale che collega gli edifici sull'isola e sabato 18 novembre torna la giornata nazionale della colletta alimentare promossa dalla fondazione Banco Alimentare durante la quale sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà i volontari della catena alimentare non si amattera riconoscibili nelle loro pettorine vi aspetteranno fuori i supermercati di tutta l'isola cosa acquistare? ce ne parlano ai nostri microfoni i volontari della catena alimentare sentiamoli siamo a circa un mese dall'apertura della nuova sede della catena alimentare ed oggi è giornata di distribuzione come vediamo i magazzini sono già mezzi vuoti però in previsione questo sabato c'è una giornata importante sì, sabato 18 novembre ci sarà la colletta alimentare un evento promosso dal Banco Alimentare che vedrà i volontari della catena alimentare non si amattera presenti fuori ai supermercati dell'isola saremo ben riconoscibili con la pettorina che ci identificherà come appunto volontari per questa importante giornata e quello che chiediamo a tutti gli isolani è di darci una mano saremo lì per raccogliere passate, verdure oppure carne in scatola tonno in scatola ma anche generi per la prima infanzia ecco la catena alimentare titolata Annunzia Matera sta per compiere 10 anni sì compirà 10 anni noi con grande sforzo e con l'aiuto di tante persone riusciamo ad andare avanti ma soprattutto con il Banco Alimentare che ci sonvenziona mese per mese questo mese ci autorizza a raccogliere per loro perché è una manifestazione a livello nazionale quindi noi non saremo riforniti questo mese dal Banco Alimentare direttamente ma quello che la raccoglieremo ce lo conserveremo quindi per noi è importante che diate qualcosa altrimenti veramente non sapremo come fare per la prossima distribuzione legumi in genere una piccola cosa non ha importanza la quantità anche una sola cosa però in tanti come diceva Annunzia una goccia riempie il mare ecco e proprio in vista del Natale abbiamo bisogno di aiuti perché da adesso fino a Natale il tempo sembra poco ma è tanto e le famiglie da aiutare sono tante sì, l'anno scorso abbiamo concluso con la distribuzione di circa 5.000 pacchi alimentari e i numeri non si allontanano neppure per la chiusura di questo 2023 dunque davvero abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti gli isolani quindi ricordiamo i prodotti specifici che fa piacere insomma ricevere per poi distribuire sono i legumi in particolar modo fagioli, ceci, piselli biscotti, merendine, latte perché è possibile che ha qualcosa in più da dare anche il tonno la pasta che ci manca tantissimo lo zucchero queste sono le cose più importanti che ci servono in questo momento poi qualsiasi cosa è ben accetta Dentro i fatti raccontandoli ponendosi domande e provando a cercare risposte questo è il filo conduttore ed ispiratore di Ultimo Round la nuova trasmissione di approfondimento di cronaca politica attualità, costume e società di Nuvola TV condotta da Gaetano Ferrandino che andrà in onda ogni venerdì a partire da domani 17 novembre appuntamento dalle 21 circa con un'ora di dibattito tra ospiti in studio collegati da remoto interventi dei telespettatori tramite social ed anche servizi e contributi filmati passiamo ora alla pagina dello sport SSD Schiacalcio è lieta di annunciare l'ingresso di una nuova figura in ambito dirigenziale Edoardo Pascarella ricoprirà la carica di team manager della prima squadra nato a Gagliate a Novara classe 69 Pascarella ha ricoperto ha ricoperto diversi ruoli in ambito tecnico come allenatore collaboratore tecnico e match analyst iniziando dal Pomigliano in serie D passando per Acerrana Bois Caivanese e in eccellenza Casa Pesena e Casa Nuovo in promozione parentesi importanti anche nelle giovanili di Arsenal e Piacenza Casavatore e Grumese le sue ultime esperienze diamo il benvenuto ad Edoardo dice il presidente Pino Taglialatela sportivo comprovata esperienza calcistica in bocca al lupo per il nuovo incarico in seno alla nostra Ischia Calcio ed ora il Real Forio ieri nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia il Real Forio ha letteralmente travolto la Scaffatese con il match che è terminato con un netto 4 a 0 ed ecco le impressioni di Andrea Di Meglio che è anche una dedica personale vediamo allora siamo con Andrea Di Meglio prestazione importante un 4 a 0 che non ammette repliche anche in vista del ritorno sì abbiamo fatto molto bene pensiamo solo al ritorno e speriamo di fare anche risultato lì si prepara subito la trasferta di Capri neanche il tempo insomma di rifiutare che sabato c'è una trasferta importante il presidente settimana scorsa disse voglio la vittoria non voglio sapere niente è giusto che ha detto queste parole noi dobbiamo fare dobbiamo fare risultato dobbiamo pensare a fare bene e portare i tre punti a casa come sempre io il gollo dedico al mister Diego che mi ha allenato da quando sono piccolo e adesso allineo il panza e spero che fa bene anche lui nel campionato ed ora una nuova allerta medio varata dalla protezione civile della regione Campania per vento forte mare agitato valido dalle 8 alle 20 di domani venerdì 17 novembre su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 2 ossia Alto, Volturno e Matese zona 4 Alta, Irpini e Sagno e zona 7 il Tanagro i venti spireranno dai quadranti occidentali e saranno localmente forti con raffiche lungo le coste esposte saranno possibili anche mareggiate si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le visure atte a prevenire e contrastare e mitigare gli effetti degli eventi attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile attenzione in particolare va prestata alla verifica della corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture temporanee e mobili esposte ai venti incluse le impalcature e la cartellonistica stradale e soprattutto al moto onduso ed ora vediamo le previsioni del tempo che cosa ci dicono per la giornata di domani ben ritrovati con le previsioni di tre bimeteo andiamo a vedere cosa succederà nella giornata di venerdì perché come notiamo dalla grafica alle mie spalle una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola porterà fenomeni soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali un rinforzo della ventilazione e un parziale calo delle temperature che però si faranno sentire soprattutto nel fine settimana andiamo a vedere con la nuvolosità cosa succederà come vediamo il fronte scivolerà gradualmente verso le nostre regioni centro-meridionali richiamere a sé correnti settentrionali favogno a tratti anche moderato sulle nostre regioni settentrionali qui con ampi spazi di cielo sereno andiamo a vedere più nel dettaglio le precipitazioni come dicevamo prima le piogge interesseranno soprattutto le nostre regioni centro-meridionali al nord vi segnalo solo qualche nevicata sulle alpi di confine altrove prevalenza di bel tempo ma entriamo più nel dettaglio con la previsione come vediamo dalla grafica tempo in peggioramento soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali attraversate da rovescio e qualche temporale ampi spazi di cielo sereno invece al nord qui con ventilazione a tratti anche sostenuta dai quadranti settentrionali ventilazione che porterà qualche addensamento sulle alpi di confine con il rischio di qualche pioggia o nevicata come vediamo temperature che rimangono ancora a tratti oltre le medie del periodo con punte anche vicine 24-25 gradi sulle nostre regioni meridionali ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo bene ed anche per questa sera è tutto ma per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al nostro sito sempre aggiornato www.nuvola.tv oppure alla nostra comoda app che potete scaricare direttamente sul vostro cellulare oppure al nostro canale Whatsapp Nuvola TV iscriversi è semplice le istruzioni sono sul nostro sito ed ora augurandovi buona serata vi lasciamo alla trasmissione Terzo Tempo Napoli